Il tempo, devi aver dorme, aspettare. Quella famiglia sta distruggendo la mia vita. E sta distruggendo la mia famiglia. ...di privilegiato a quello di spregevole reietto, e così spesso si commettono delle ingiustizie. Che vuoi dire? Non capisco cosa l'udi. Ecco, io non sono così sicuro della colpevolezza di Franco, anzi, penso che qualcuno voglia incastrarlo. A causa di quella famiglia hai perso la ragione, lo sai? Di quella famiglia?